Qui vi presentiamo le 5 migliori misuratore di umidità. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Termo Pro TP50. Il misuratore di umidità ecologica vi permetterà di riconoscere i livelli di questo valore nell'aria all'interno della vostra residenza o sale di lavoro. Grazie a questo avrete sicuramente la capacità di riconoscere se le condizioni della vostra residenza sono perfettamente asciutte e anche senza umidità, per garantire che si può avere un migliore controllo del vostro benessere e quello della vostra famiglia o colleghi. Grazie alle due funzioni consistevano con il misuratore, è possibile accedere ai dati sulla temperatura e sull'umidità nell'ambiente della casa. Sia il termometro digitale che anche l'igrometro vi daranno certamente letture molto accurate con un livello di fiducia in se stessi di, 2, 3% RHE, primo C, rendendolo il migliore per l'uso in un ambiente come le signe. Passando al numero 4 Stonley 077030 Misuratore di umidità Il misuratore professionale è adatto per determinare l'umidità su superfici come pavimenti e superfici a parete di numerosi materiali. Avrete certamente uno strumento che vi permetterà di trattare con legno, intonaco, cemento, mattoni e diversi altri prodotti struttura, davvero tipico per il vostro commercio. Avrete un array determinante che varia con porzioni tra 0.2% e anche 2% e anche si avrà la possibilità di leggere tutte le informazioni chiaramente su un display di cristallo fluido di alta qualità. L'estremità superiore di questo misuratore, che è quello che individua l'umidità, ha un quadro che lo protegge da impatti accidentali fattibili, come le cadute. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3 Brennerstool 1.298.680 Per stabilire valori di umidità in legno o prodotti struttura come calcestruzzo, blocco, rivestimento costante del pavimento, cartongesso e mobili, non sarà certamente individuare un dispositivo migliore. Grazie alle sue caratteristiche, è possibile utilizzare il misuratore per identificare se è possibile utilizzare particolari oggetti di legno come legna d'Ardein. Il misuratore offre una varietà di misura dal 5 al 50% in legno e anche dal 15 al 33% in altri prodotti da costruzione. Guardare le informazioni sarà davvero senza problemi e facile grazie allo schermo LCD fornito con il miglior misuratore di umidità, che include allo stesso modo un comodo sistema di allarme per avvisare l'utente quando vale la pena di limitazioni si trovano nei prodotti. Amostat è top of our list at number 2. Trotec indicatore di umidità BM31 Stai cercando di trovare un rilevatore elettronico che ti consenta di identificare l'umidità in materiali come pavimenti, pareti e soffitti in modo super rapido e anche non invasivo? L'opzione è prendere in considerazione il design Trotec BM31, che vi darà le migliori misure in sec. Il design del contatore dalla testimonianza vi permetterà certamente di rilevare prontamente e facilmente l'umidità presente in diverse aree di prodotto nella residenza o sul posto di lavoro. Estremamente con successo si avrà certamente la capacità di collocare la circolazione di questo fastidioso problema su aree di superficie come superfici mura, pavimenti o soffitti, per assicurarsi che è possibile apportare le modifiche essenziali nel tempo. E infine il numero 1 della nostra lista. Trotec T660 Misuratore di umidità Con il rilevatore Trotec è possibile effettuare misurazioni veloci, che vi permetterà di riconoscere le distribuzioni di umidità in posizioni di prodotti di circa 4 cm di profondità. Per acquisire risultati molto accurati, è possibile stabilire le funzioni minimum e optimum, che certamente vi permetteranno di eseguire la migliore analisi dei degni ottenuti. Se lo si richiede, il misuratore di umidità vi permetterà certamente di mantenere i valori attuali con la funzione Hold. Si avrà anche un'interfaccia USB per il collegamento diretto al PC e grazie al programma Software Multiprocedure Studio è possibile trasferire tutte le informazioni accumulate online e anche conservarle per analisi successive. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.